Da sempre la morte è guardata con occhio di preoccupazione perché è contraria alla vita e all'istinto della conservazione che è un dono di Dio. Se Dio non avesse date a noi l'istinto della conservazione cioè di stare bene in salute e quindi non rovinare il corpo umano se non avessimo avuto da Dio quest'istinto della conservazione alle prime difficoltà alle prime scaramucce di famiglia o con la società avremmo dato forfait e ci saremmo tolte di mezzo. Molti cristiani pur credendo in Dio non credono nella risurrezione nel paradiso, nell'inferno. Tale situazione aggrava il tormento della morte. Il pensare che non si sa che cosa avverrà dopo che noi abbiamo chiuso gli occhi alla scena di questo mondo crea ancora di più il tormento di passare all'altra parte. Il messaggio di Gesù getta un po' di luce sul problema della morte presentandosi come il Signore della vita è lui colui che risorge dai morti che periodicamente nelle pagine del Vangelo leggiamo che ha dato la risurrezione a qualche morto ma è principalmente la sua risurrezione che è la testimonianza di quello che sarà la nostra vita futura. Il Catechismo della Chiesa Cattolica ci parla che è per colpa del diavolo che è entrata la morte nel mondo perché il diavolo ha portato il peccato e col peccato è subentrato la morte. La morte è contraria ai disegni di Dio ed essa entrò nel mondo come conseguenza del peccato. La responsabilità dei cristiani è molta, è necessario come logica conseguenza dei cristiani di dimostrare la propria fede, una fede forte anche se sofferente, anzi principalmente se è sofferta e deve spingere tutti a impegnarsi per la costruzione di un mondo migliore. Il Vangelo nella risurrezione del figlio della vedova di Nain ci raffigurare un altro miracolo della morte, il miracolo della morte spirituale nel grande Agostino. Per le lacrime e le preghiere della mamma Santa Monica Agostino risorge a vita nuova. Quante morti ci sono e quante indifferenze da parte nostra. Devo dire che ci sono anche tante mamme che piangono sulla triste situazione dei figli. Esorto tutti a pregare per questi figli che sono la piaga, la spada nel cuore delle loro mamme perché hanno affrontato una vita scabrosa, si sono immessi nella vita tormentata del peccato. Padre Pio, possiamo dire, ha costruito la casa sollieva della sofferenza, ma è nella morte che San Pio ci dà la testimonianza della risurrezione. Con la sua morte scompaiono le stimate e che sono il segno della risurrezione della carne.